E' il giorno del bilancio all'Aquila dove dopo settimane di polemiche, scambi di accuse e tensioni che hanno interessato la stessa maggioranza Con i consiglieri dell'ala di sinistra che hanno annunciato il voto contrario, il Consiglio Comunale è chiamato ad esprimersi su un documento tecnico per evitare lo scioglimento dell'assise Un documento di programmazione economico-finanziaria che su molte voci riporta la sconsolante cifra dello zero, a partire da sociale, cultura e sport, tagli di servizi e lacrime sangue Testimoniato dall'aumento del 20% della tassa sui rifiuti Se non ci sarà un ulteriore innalzamento delle imposte, ha annunciato il sindaco Cialente nei giorni scorsi E' solo perché dal governo arriveranno i fondi richiesti per coprire le maggiori spese e le mancate entrate legate al sisma Da Roma non arriveranno i 24 milioni richiesti, né 18 che in un secondo momento sembravano sufficienti Ma solo, tra virgolette ovviamente, 16 milioni annunciati con una lettera dai sottosegretari De Vincenti e De Micheli Che verranno sbloccati con il decreto Enti Locali Il Via Libera dovrebbe, salvo imprevisti, arrivare a metà giugno e a quel punto la Giunta Comunale si riunirà d'urgenza Per votare un maxi emendamento che sarà dunque il vero e proprio bilancio di previsione dell'ente Che verrà poi discusso in prima commissione e in consiglio comunale per l'approvazione definitiva La seduta di oggi pomeriggio, con l'eventuale seconda convocazione per mercoledì prossimo Rappresenta sicuramente una particolarità, se non proprio si vuol parlare di un'anomalia Con le opposizioni sul piede di guerra e veleni che hanno lacerato la stessa coalizione di governo Difficile però pensare ad una clamorosa caduta di Cialente dei suoi Visto che al momento nessuno sembra intenzionato ad andare ad elezioni anticipate La raccolta firme per far cadere la maggioranza annunciata dai salviniani Si è rivelata un fuoco di paglia e da fonti ben informate risulta che anche nelle opposizioni Non tutti sembravano propensi a porre il proprio sigillo sul documento di sfiducia al sindaco Meglio un bilancio tecnico che andare al voto pensano molti a Villa Gioia In attesa di riposizionamenti in movimenti che porteranno alle amministrative del 2017 La cui campagna elettorale, con buona pace di molti, è già iniziata da tempo Da domani e sino al 26 maggio, all'auditorium del Parco del Castello dell'Aquila Torna Officina L'Aquila, evento promosso e organizzato da Ance Abruzzo Insieme a Ance L'Aquila, Ance Chieti, Ance Pescara, Ance Teramo e Carza SRL Frutto dell'esperienza proficua delle 5 edizioni del Salone della Ricostruzione che ha visto ruotare nel capoluogo dell'Abruzzo colpito dal sisma 10.000 visitatori annuali arrivati da ogni parte d'Italia per visitare una vetrina esclusiva per tutte le tecnologie impiegate nella ricostruzione del cratere Per comunicare e valorizzare la straordinaria esperienza della ricostruzione in corso arrivata a una fase di vivace evoluzione, la tradizionale rassegna fieristica sulle tecniche e materiali per ricostruire viene superata con una serie di incontri dalla formula innovativa Rassegna Internazionale che presenterà le più interessanti esperienze nel campo del restauro e della riqualificazione urbana realizzate all'Aquila in Europa L'Aquila è oggi un cantiere di recupero architettonico urbano di Valenza Internazionale un enorme laboratorio dove si sta esprimendo un'avanzata sperimentazione nei cambi combinati del restauro del recupero, del consolidamento antisismico e dell'adeguamento energetico un'esperienza unica che poi deve rappresentare un volano eccezionale di sviluppo C'è un evidente salto di qualità nell'edizione di quest'anno di Officina L'Aquila che ben si sposa con il fatto che a sette anni dal sisma la ricostruzione deve imparare a usare ormai il linguaggio della smart society della sostenibilità sociale, del confronto con modelli urbani, architettonici e di restauro di livello internazionale Il presidente di Anci Enrico Ricci ha sottolineato le priorità dell'associazione che presiede Il processo di ricostruzione è un laboratorio mondiale di antisismica con Officina L'Aquila vogliamo proporre un nuovo modo di pensare la città che si sta costruendo Sulla qualità degli interventi in corso di realizzazione e sulle prospettive si è concentrato l'intervento di Roberto Di Vincenzo presidente di Carza e coordinatore di Officina L'Aquila L'Aquila è anche un esperimento mai avvenuto prima in Italia di gestione della ricostruzione post-sisma un modello che consente ai cittadini proprietari di abitazioni di scegliere le imprese Dopo una partenza lenta ora l'Aquila la ricostruzione sta correndo e presto restituirà un meraviglioso centro storico bellezza e qualità che sarà possibile toccare con mano e apprezzare nelle tre giornate attraverso cantieri aperti che con continue visite guidate permetterà per la prima volta di entrare nel cuore della ricostruzione I giocatori pagano il biglietto della trasferta ai tifosi Dopo l'iniziativa del pullman gratuito messo a disposizione dei supporter da alcuni soci rosso-blu i calciatori aquilani ieri sera attraverso una nota ufficiale hanno voluto farsi promotore di una nuova iniziativa in vista della gara di ritorno dei play-out il prossimo 28 maggio a Rimini I calciatori sostanzialmente pagheranno ai tifosi che volessero aderire all'iniziativa il biglietto del settore e ospiti Un modo, hanno sottolineato, per stringerli ancora di più attorno alla squadra nell'ultima grande occasione per mantenere la categoria e anche per ringraziarli, hanno detto, del sostegno fornito durante tutta la stagione nonostante le difficoltà ed i risultati abbastanza deludenti Sul fronte squadra non dovrebbero esserci problemi per Vittorio Triarico uscito a causa dei crampi nel match di sabato con i Rimini al Fattori Dovrebbero entrare dal primo minuto anche l'esperto Emanuele Pesoli pienamente recuperato dall'infortunio Più difficile invece appare l'impiego del centrocampista Danilo Bulevardi Sorpresa Andrea Mancini Una gara da titolare ad Aprilia e scampoli contro i Rimini Ottima impressione ed è stata tra gli addetti ai lavori Potrebbe essere lui la carta vincente Il ragazzo ha fammi di campo e anche i tifosi chiedono a gran voce il suo utilizzo sin dal primo minuto Intanto oggi l'Aquila ha ripreso gli allenamenti per preparare l'ultima chiamata alla salvezza La squadra si allenerà tutta la settimana e venerdì partirà per il ritiro Grazie a tutti